vedo che lei fa buone letture e questo vi fa piacere io faccio un'ottima lettura e a suo punto ne parliamo perché è molto divertente perché vede David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari non vorrei usare questa discussione per farvi pubblicità quindi lo fa lei e la ringrazio allora perché se no sembrerebbe una marchetta che non vorrei David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari che è autobiografico perché in questo libro che lui usa per dire che noi ci inventiamo le cose prende e manipola i post miei nello specifico qui c'è un post manipolato dove Parenzo mette in bocca a me esattamente quello che ha detto lui adesso, e cioè che io avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricollocamento non devono avere i fondi dalla UE, cosa che io non ho mai detto, sulla quale tra l'altro lui mi insulta, si figuri, la cosa che lui ha appena proposto, se fermi, no, perché è divertente, la cosa che lui ha appena proposto, nel suo libro in cui falsifica i miei costi, la mette in bocca a me, è una cosa che io non ho mai scritto e che adesso sono in grado di dimostrare, ma non mette un mio post e poi mi insulta sulla parte che ha, ma non ho messo che è esattamente quello che ha appena proposto, non posso, non voglio rispondere, non le rispondo nel merito perché non voglio usare la mia trasmissione, quella di Telese per fare... Non si preoccupi, la voglio usare io, perché siccome io considero questa diffamazione, è la faccia in tribunale allora, scusi, è il fatto che lei prenda, ma la faccia in tribunale, il fatto che lei falsifica il posto della sottoscritta, per poi insultare la parte da lei falsificata, siccome stabilisce anche seriamente la serietà delle sue argomentazioni, del suo modo di lavorare, è bene parlarne. Meloni, se vuole parlare del mio libro quando vuole, non uso questa trasmissione, se ha dei problemi, vi fa una bella querela per diffamazione e ne parliamo in tribunale. Mi dispiace che lei sta usando la trasmissione di Telese e mia per farmi pubblicità al libro. Non volevo che lo... No, io sto usando la trasmissione per denunciare che ci sono dei giornalisti. Qual è la parte che sarebbe apocrifa? Come David Barenzo, che hanno arbitrariamente falsificato le mie dichiarazioni... Lo faccia il tribunale. ...per poter far credere... Qual è la parte che non c'è? Mi ha correlato? Allora... Mi ha correlato? No, perché me ne trovo purtroppo a corta destra. Qual è la parte che non c'è? Me ne trovo purtroppo a corta destra. Qual è la parte che non è nel suo posto? Io faccio un post dicendo, Conte e Di Maio parlano come Renzi. Due punti aperte virgolette. Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa, allora taglieremo i fondi alle UE. Chiusa virgolette. E, commento, ma la soluzione all'invasione dell'Italia non è far invadere l'intera Europa, eccetera. L'unica soluzione è il blocco navale e gli immigrati qui non devono arrivare. E quello ho sempre detto. Parenzo prende questo post, lo manipola, lo riscrive, mette in bocca a me il fatto che io avrei detto, che io voglio, che se gli immigrati arrivano in Italia non saranno distribuiti, allora taglieremo i fondi alle UE. Quindi lo mette in bocca a me, perché o non ha capito o l'ha manipolato, e poi dice, minacciare come fa la Meloni di tagliare i soldi che diamo alle UE. È pura follia, cioè quello che ha proposto adesso il signore Parenzo, perché anche grazie a quei fondi, l'Europa, eccetera, eccetera. Allora, io segnalo che lei è uno che ha scritto un libro che si chiama I falsari, che è autobiografico, perché lei è esattamente questo, uno che falsifica le dichiarazioni degli altri. Non uso questa trasmissione per fatto personale. Ma no, ma voglio dire, non uso questa trasmissione per replicare nel merito, per fatto personale, perché mi sembrerebbe ingiusto rispetto al nostro editore e alla trasmissione. se lei vuole lo fa in tribunale, se lei vuole lo fa in tribunale, se riparò lo farò e non escluso che io lo faccia. E io non vedo l'ora. Ma intanto è che gli italiani sappiano chi hanno di fronte. Va bene, usciamo da questa... E io non vedo l'ora, perché la posizione è stata chiarita. La posizione è stata chiarita, è chiaro cosa dice l'Adoni, chi vuole comprare il libro, io vorrei... Domanda al contrario. Non comprare i libri dei mistificatori. Passiamo al tema di Fratelli d'Italia, cos'è questo partito ora, cosa vuole fare, i suoi risultati dove portano. Non le consento di dire pratiche del genere, perché qui l'unica cosa dimostrata è che lei falsifica quello che dico io. E io non falsifico niente, lo deve ancora dimostrare. Talmente ha fatto un film, un libro che si chiama Falsari e non sapeva come giustificare il titolo di un libro su cui non ha argomentazioni, che l'ha dovuto falsificare. E sì, lo dirò in tribunale. Lo dirà in tribunale. In servizio di Elendezzi, tu fratelli d'Italia. Ci divertiamo.